Il sindaco Federico Piccitto ha attivato per domani 9 settembre il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici a seguito di previsioni meteo fortemente avverse. Nella giornata di domani sono infatti previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, a carattere diffuso con quantitativi molto elevati di forte intensità e locali grandinate, frequenti attività elettriche, forti raffiche di vento. I cittadini di tutta la provincia sono invitati per la giornata di domani a prestare la massima attenzione negli spostamenti fuori e all'interno della città, a controllare l'ancoraggio di struttura all'esterno delle proprie attività, i gestori di impianti pubblicitari e affissionistici a verificare la tenuta delle proprie installazioni e le imprese di costruzione a controllare ponteggi, grue e ogni altra struttura presenti nei cantieri edili. La protezione civile segnale inoltre alla cittadinanza i siti di seguito elencati, in cui potrebbero riscontrarsi le maggiori criticità. Via Monelli, Via Dolorata, Via Risorgimento, da Rifornimento Agip fino all'incrocio strada statale 194, le bretelle laterali di Viale delle Americhe, Via Archimede, zona Sacra Famiglia, la strada provinciale 13, 100 pozzi all'altezza del Sottovia, strada statale 115, la strada statale 194 da Ibla a Giarratana, Via Alfieri, zona industriale terza fase, Corso Vittorio Veneto all'altezza della Banca Agricola Popolare, Via Archimede, angolo Viale dei Platani. Ma si chiede ai cittadini di tutta la provincia di prestare la massima attenzione.